Musica Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e il BV111 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipilico di attratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Prima di salutarci per il traffico urbano del capoluogo, informiamo che questa sera in orario 21.6 sono in programma lavori di asfaltatura in via circondaria con restringimenti di carreggiata. Domani, venerdì 12, asfaltature in viale 11 agosto. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!